Allora, Jordan, come va? Io vado molto bene. Sono contento di ritrovare Trigoria, il mio compagno di squadra. Io sono molto contento di fare l'allenamento con tutti. Anche se vi vedete da lontano, vi salutate con la mano. Però meglio di niente. Sì, meglio, perché se si vede, possiamo parlare un po' lontano di tutti. Ma solo vedere i miei compagni della squadra mi fa piacere molto. Loris, che ti chiede, che cosa hai pensato la prima volta che hai visto l'Olimpico da avversario? Un stadio impressionante. È una curva anche impressionante. È sempre di giocare l'Olimpico contro la Roma. Per me è una cosa molto bella. anche davanti a tutta la curva è impressionante. E salutiamo Nicolò che ci sta seguendo. Nicolò, se c'è una domanda da farci. Anche sono molto contento perché lo vedo sul campo e dopo questo è infortunato. Io mi piace tantissimo Nicolò e io lo voglio bene da lui. e sono molto contento che hai iniziato il lavoro sul campo. È vero, è vero. È stato proprio bello rivederlo. E spero da tra poco è con noi sul campo. Speriamo, speriamo. Intanto è stato bello rivederlo in campo, insomma. Ci piace vedervi lì. Anche per noi è un calciatore molto importante. Certo, certo che sì. Noi vogliamo tutti i calciatori sul campo. È vero, è vero. Senti, c'è Max che dice in questo weekend riparte la Bundesliga. Te le guarderai le partite? Sì, per forza. Mi manca troppo di guardare il calcio. Ci manca a tutti. Sono d'accordo. Quindi da domani ricominciamo. Speriamo magari presto di poterle vedere anche le vostre. di partite. Sì, spero, spero. Intanto vediamo quelle tedesche. C'è un altro Max che invece chiede se c'è una leggenda del calcio francese con cui vorresti giocare, se potessi. Un giocatore del passato. Se c'è una leggenda del calcio francese, un giocatore importante del calcio francese, con cui ti piacerebbe giocare oggi, se potessi. Di fantasia. Zinedine Zidane. Sì, è una leggenda per noi francesi e anche un grande calciatore, anche un grande allenatore. Per noi Zinedine Zidane. Beh, diciamo che tu in campo insieme a Zidane forse tu giocheresti un pochino dietro. Tu lo proteggi. Io recupero le palla e subito a lui. In effetti c'è Danilo che invece ti chiedo com'è stato segnare il primo gol in giallo-rosso. E adesso vediamo se non sbaglio. Ecco, eccoci qua. Te lo ricordi questo? Sì, sì, sì. Il primo gol è contro Napoli, in rigore. Ma al primo tempo è Ale Korarov che ha sbagliato il rigore è permesso che lui doveva cacciare il secondo. E io lo guardato subito e mi ha detto Jordan vai. Io ho detto e Zinedine ha la palla e io penso che anche lui voleva cacciare. E lui mi ha donato la palla e mi ha detto vai Jordan io ho preso la palla ma quando ho preso la palla la palla è pesante. Eh ci credo che è pesante. Già il rigore è pesante. Poi se tiri al posto di Korarov diciamo diventa ancora più pesante. Sì, sì. È molto pesante. Ma alla fine ho fatto il gol e il più importante è di fare il gol e che abbiamo vinto contro Napoli. C'è Laura che ti chiede qual è lo stadio più bello dove hai giocato? Ah c'è tanti. Togliamo l'Olimpico. Eh l'Olimpico è bello ma anche ho giocato in Inghilterra c'è tanti belli stadioni anche in Francia il velodrome è bello. io ho giocato anche a Nantes a Sant'Etienne sempre di bello anche in Coppa del Mundo in 2020 abbiamo giocato al stadio di Galatasaray è anche bello e c'è tanti bellos stadios dal mondo. anche ho giocato a Bernabéu ho visto il Camp Nou anche c'è tanti tanti stadioni belli. C'è Alessio che invece ti chiede se c'è un calciatore di adesso a cui ti ispiri se c'è un calciatore che ti piace che ti piace particolarmente in questo periodo fra quelli delle altre squadre diciamo in Europa. c'è tanti io mi piace guardare il calcio e sempre quando io guardo una partita mi ispirano dei grandi calciatori cento campi ma uno no ma c'è tantissimo e io mi piace anche Nengoran Nengoran per me un grande calciatore anche che ha giocato a Roma ha fatto bene qua e per me per me è un esempio perché lui è venuto fare la sua carriera in Italia e nessuno lo conosce prima e ha fatto il suo nome e per me è un esempio che lui ha fatto beh ha fatto un bel percorso poi ci è arrivato piano piano non è non è esploso da giovanissimo è cresciuto piano piano ma anche quando io gioco contro lui è sempre difficile è sempre dietro di te senti ci sono tanti che ti dicono resta vita a Roma rimani a Roma resta a Roma quindi insomma ci sono un sacco di persone che ti vogliono bene io sono un romanista che ce lo stanno scrivendo e mi sento mi sento bene a Roma anche la mia famiglia e nessuno vuole andare via allora c'è una Ale che ti chiede la tua partita più bella finora alla Roma io ti voglio dare un suggerimento però poi puoi scegliere tu liberamente però io diciamo che quando hai fatto questa cosa qua secondo me questo è stato il giorno che sei entrato nel cuore dei romanisti vittoria l'ultimo momento contro Bologna sì tu prendi la palla lì sì ho fatto una bella azione e alla fine abbiamo vinto un grande passaggio dell'ore un grande gol dell'Edin all'ultimo momento una bella vittoria anche all'inizio del campionato e per l'integrazione è molto importante questa vittoria molto molto senti mi dici tu quando prendi palla ecco qui all'inizio tu che cosa non so se te lo ricordi ma lì che cosa pensi pensi tengo palla faccio passare il tempo oppure avevi visto già subito per le grigie per le piantare da lunghe perché noi siamo a dieci penso sì abbiamo preso un rosso e ho detto l'ultimo momento dai andiamo davanti vediamo che passa e c'è un cacciatore secondo e al terzo ho fatto il passaggio all'ore che ha fatto un grande assist per l'edin vero è vero è stato bello anche io io sono è una della mia qualità è di prendere la palla e di rimontare il campo un po' così e oggi devo fare ancora di più perché è importante questa cosa eh sì direi di sì poi guarda già che stiamo vedendo i video te ne faccio vedere un altro pure qui qua la palla pesava più o meno di quella con il Napoli un po' meno un po' meno ma in Turchia c'è il stadio è bruyante non senti anche anche la fisica dell'arbitro non ho sentito e c'è quando ho visto il portiere partire dall'altra parte un po' un po' respirare eh ci credo è andato è andato bene Marco che ti chiede se ti chiami Jordan per Michael o se non c'entra niente con Michael Jordan no 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 i genitori anche io non penso che guarda il basket ma penso di no io faccio la 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 chiamata va bene poi ce lo dici mi è venuto in mente leggendo questa domanda se questi giorni stai vedendo la serie su Netflix su Michael Jordan di Last Dance ti è capitato? eh no c'è un amico che mi ha detto di guardare ma da tra poco io vado a vedere perché mi piace tantissimo di guardare le leggende anche da altri sport per sapere la vita di un cacciatore di una leggenda del basketball sì sì te lo consiglio perché sta piacendo tanto anche a chi non è appassionato di basket a tante persone perché racconta bene un grande un grande uomo invece c'era Gabriele ha scritto poco fa ti chiedeva se secondo te in questi cinque mesi alla Roma potevi fare meglio e aggiungo io ti chiedo secondo te se la risposta è sì che cosa potevi fare ancora meglio eh sì possiamo fare sempre meglio penso che ho fatto sei mesi buono che posso fare anche meglio ma abbiamo tanti infortunati al centro campo e di giocare tutte le partite la prima anno a Roma è è comunque difficile perché di restare tutte le partite sempre c'è una performance sempre alta sì allora è molto difficile anche c'è un problema prima un po' alla Kabilia che oggi la Kabilia è tutta a posto ma sì io posso fare anche meglio e sì E...